in questa puntata mafie commissione di inchiesta il voto in aula rigassificatore a piombino tre anni di concessione sinalunga quinta edizione di incantaborgo il consiglio regionale condivide integralmente la relazione di maggioranza sui lavori della commissione di inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzate in toscana impegna gli organi della regione per gli ambiti di rispettiva competenza a recepire le proposte operative offerte dalla relazione di maggioranza anche mediante iniziative condivise questa la proposta di risoluzione presentata dai consiglieri del partito democratico e di italia viva che l'aula di palazzo del pegaso ha approvato a maggioranza registrando il voto favorevole dei gruppi pd e italia viva e quello contrario di lega fratelli d'italia forza italia movimento 5 stelle 22 voti a favore e 14 contro dopo un ampio dibattito i consiglieri hanno anche approvato tre degli ordini del giorno presentati dai consiglieri di minoranza sempre collegati alla relazione finale di maggioranza gianni anselmi del pd nel corso delle dichiarazioni ha annunciato la non partecipazione al voto sugli atti di indirizzo per riflettere dare ruolo all'aula ci dispiace che il partito democratico non abbia condiviso con noi con le opposizioni il ringraziamento va alla presidente meini al collega capecchi che in commissione di inchiesta sulle infiltrazioni mafiose sul cheo hanno fatto un lavoro straordinario la domanda vera è perché il partito democratico ha scelto di non condividere la relazione con le opposizioni perché il partito democratico ha scelto di presentare una propria relazione non ha condiviso le soluzioni che sono all'interno della relazione presentata dalle opposizioni ci rimangono ancora tanti dubbi sull'inchiesta che è o sull'inchiesta delle infiltrazioni mafiosi certo è che un elemento derimente di questa inchiesta sono le dichiarazioni del presidente rossi quando ci dice testuali parole allegate alla relazione che dell'emendamento che è o si sapeva ormai da mesi che lui era contrario allora la domanda è perché il partito democratico ha presentato quell'emendamento ecco noi continueremo a chiedere ancora verità continueremo ancora a chiedere giustizia per quei territori che sono stati vittime del cheo sulle sulle strade il primo tema è quello dello strumento la commissione di indagine può essere richiesta soprattutto dalle opposizioni ma in realtà ha pochissimi poteri istruttori e coercitivi nei confronti di soggetti che possono anche rifiutarsi di venire pur invitati questo è successo complice anche il fatto che questa commissione si è svolta durante le indagini che praticamente non sembrano non finire mai quindi siamo anche curiosi di capire se quali sviluppi ci saranno rispetto alle posizioni soprattutto di coloro che svolgevano e svolgono ancora una funzione pubblica sia politica che tecnica il secondo elemento poi sta invece nell'atteggiamento che la giunta e una parte degli uffici hanno avuto durante lo svolgimento delle audizioni e dei lavori della commissione. Tante volte abbiamo letto sui giornali il giorno stesso della convocazione anticipazioni o spunti che la giunta per esempio anziché venire a condividere con la commissione in realtà rendeva pubblica. Terzo c'è stata una divaricazione pericolosissima di cui ancora non si conoscono gli effetti fra ARPAT e struttura tecnica della regione. ARPAT riteneva fondamentalmente che i consorsi che sono coinvolti in questa vicenda non fossero responsabili. Gli uffici tecnici dei servizi pubblici hanno invece fatto un decreto che la commissione ha scoperto per caso in cui rimetteva nel novero anche dei responsabili tenuti alle bonifiche anche i consorsi dei conciatori e questo chiaramente ha necessitato un ulteriore prolungamento dei lavori della commissione e una valutazione non esattamente linea fra maggioranza e minoranza. No, non c'è nessun riscontro che quell'emendamento abbia avuto una conseguenza rispetto all'indagine del Cheo. Questo credo che era l'intento che voleva dimostrare la minoranza, che c'era una correlazione tra l'emendamento presentato e l'indagine del Cheo. Io ricordo solamente due date. L'indagine è partita da ARPAT nel 2017, l'emendamento è stato approvato nel 2020, mai applicato perché non è stato necessario applicarlo. In quel momento non c'erano i tempi tecnici per tornare in aula per modificare la legge perché eravamo a fine legislatura e questo è il motivo per cui la giunta si è opposta rispetto al ricorso che veniva fatto. Perché abbiamo rimosso l'emendamento? Abbiamo rimosso l'emendamento perché comunque su questa legge che è davvero innovativa, unica in Italia, che gestisce il quadro normativo che consente la gestione mista degli impianti, pendeva un potenziale ricorso da parte del Consiglio di Stato. Quindi abbiamo detto che siccome non è stato applicato, siccome non serve, siccome comunque non serve lì dentro, lo togliamo così evitiamo che ci venga discorso tutto l'impianto normativo. Il segnale è che la Regione deve impegnarsi per mettere in atto tutto quello che serve per dare garanzia agli imprenditori di avere un sistema legislativo, normativo, autorizzativo che li possa garantire da eventuali potenzialità di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Non siamo d'accordo sul che o non perché non è successo. È successo ma non spetta al Consiglio regionale andare a inserirsi in un'indagine di una magistratura. Noi dobbiamo solo verificare che le regole che abbiamo dettato consentano di essere tanto difficile penetrare in Toscana. Il che è una cosa che, certo, lo comprendiamo che la minoranza ha dovuto provare a rimettere all'ordine del giorno l'idea che emendamento che ho colletti bianchi, politici, dirigenti e funzionari di questa Regione fossero la stessa cosa. Non è così. Il che ho partito l'indagine del 2017 e l'emendamento del 2020 mai applicato. Questa è la nostra risposta. È stato impossibile arrivare alla definizione di una relazione comune perché a quello che sembrava la maggioranza aveva visto, aveva letto dai fatti che si sono succeduti nel corso di quest'ultimo anno una visione tutta propria che era impossibile da condividere e soprattutto che non sarebbe stata e credo che non sia accettabile anche da parte di quei tutti i cittadini che non più tardi di pochi giorni fa si sono sentiti dire che le bonifiche alle aree inquinate dal Cheu saranno difficili e in alcuni casi impossibili. La relazione che abbiamo presentato come opposizione si è tenuta il più lontano possibile nel rispetto di tutte le persone coinvolte dalla questione giudiziaria ma non ha potuto fare a meno di un giudizio politico molto severo che è stato poi il medesimo che Rosi Bindi, certamente non una persona qualunque nel panorama politico, ha espresso nei confronti della politica che troppo spesso si autoassolve ed è velocissima nel cercare delle giustificazioni e delle coperture anche alle sue azioni che vengono pubblicamente considerate veramente nemiche di quello che è l'onore e la disciplina che ci dovrebbero caratterizzare. La nostra relazione è similare a quella di maggioranza per quanto riguarda la criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose in Toscana mentre si contraddistingue per quanto riguarda l'inchiesta Cheu che è la motivazione principale che poi ci ha portato a richiedere questa commissione. Ancora diverse domande senza risposta però ho voluto guardare avanti e quindi ho voluto proporre una serie di attività, una serie di interventi e dal punto di vista amministrativo per cercare di evitare che tutto ciò si possa ripetere. All'interno dei nostri ordini del giorno chiediamo il potenziamento di ARPAT, chiediamo una commissione che è già la commissione esistente di garanzia e controllo che possa occuparsi anche del tema della legalità, chiediamo il potenziamento del fondo anti usura, chiediamo poi che quando si presentano emendamenti in consiglio regionale soprattutto su tematiche delicate come quella dei rifiuti ci siano i tecnici della regione a garantire la procedura della presentazione dell'emendamento e ciò che sta scritto al suo interno e poi chiediamo che nel momento in cui ci siano delle impugnative di fronte del governo su una serie di leggi votate dal consiglio regionale che sia lo stesso consiglio regionale a decidere se impugnare oppure no tale legge perché c'è stato detto che l'impugnativa è un atto dovuto, in verità lo abbiamo visto e la maggioranza ce l'ha dimostrato diverse volte che ciò non è così e quando si può una legge si corregge. Una relazione che non ha trovato un consenso unanime con due punti di vista differenti però un lavoro buono fatto dai colleghi della commissione d'inchiesta che di fatto in questo periodo hanno lavorato in maniera molto attenta, c'è un tema delicato che emerge dalla discussione, quella delle infiltrazioni mafiose che ci sono ovviamente in Toscana con il resto d'Italia e serve per contrastarle una politica che sia forte quindi bene che il consiglio regionale abbia affrontato questa questione, che abbia approfondito, che abbia reso trasparente l'operato della nostra regione e nel rendere trasparente l'operato della nostra regione è ammesso nelle condizioni tutti i consiglieri di approfondire nei dettagli quello che è stata una questione molto importante quella del CHEU e non soltanto. Due relazioni diverse dovute al fatto che ascoltando la relazione della Presidente Meini che è persona estremamente pacata e valutativa nel dare giudizi, parlare in aula di domande alle quali ancora non è stata data una risposta fa capire che sul legame tra la nostra terra e la criminalità organizzata c'è ancora tanto 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 da indagare e da scoprire. Credo inoltre che vi siano porzioni intere di territorio, penso a quella dell'Empolese con la strada regionale 429, penso a quella stessa del comparto del quadro di Santa Croce che ancora attendono delle risposte perché sulla famosa strada 429 i carotaggi sono partiti da pochissimo, non ci sono ancora risposte e qui stiamo parlando dei cittadini che ancora non sanno se vivono, mangiano, camminano, fanno crescere i propri figli su un terreno sopra dei veleni o su un terreno sano. Io credo che la credibilità della politica passi nel dare una risposta certa, che può essere anche una risposta brutta ma certa, ai cittadini. Il fatto che la Presidente della Commissione CHEU, la Commissione d'indagine sulle infiltrazioni mafiose, più che CHEU, oggi in aula dica che vi sono tantissime domande a cui ancora non c'è risposta, me lascia molto 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 basito da questo punto di vista. Ed ascoltare invece la maggioranza che con nonchalance plaude a una relazione che dimostrerebbe che la Toscana è la terra dei sogni in cui la criminalità organizzata non attecchisce, secondo me è una fotografia di una terra che purtroppo non corrisponde più alla realtà. Ho detto no a Snam, ma la richiesta di concessione per 25 anni è inaccettabile. Così il Presidente Gianni in aula parlando del rigassificatore di Piombino. L'operazione è possibile solo se sarà una cosa temporanea e se ci saranno le condizioni per usare il porto di Piombino, che sarebbe la prima località d'Italia ad avere una nave rigassificatrice in città. Il Presidente Gianni ha ricordato che sono 29 miliardi di metri cubi di gas da far passare nei gasdotti russi e sostituirli con i rigassificatori di Ravenna e di Piombino significa 5.000 ciascuno a coprire un terzo del fabbisogno. Noi continuiamo a pensare a quello che pensiamo dal primo giorno, cioè che una città come Piombino, che già tanto ha dato e ha pagato alla crisi industriale, alla crisi economica, alla crisi pandemica e che oggi cerca di ripartire con quella risorsa che ha a disposizione, la prima delle risorse che ha a disposizione. Cioè mare e turismo non possa subire l'onta di una nave petroliera, metaniera, di 300 metri di lunghezza, ormeggiata per tre anni nel porto di Piombino. Noi siamo assolutamente in linea con la battaglia che il sindaco di Piombino, Ferrari, sta facendo per evitare questo scempio. Ci fa piacere, questo sì, che il Governatore Gianni, da essere un ultra del progetto rigassificatore a Piombino, stia ponendo delle criticità. Ho paura, però spero per una volta confido nel Governatore Gianni, ma ho paura che l'aver accettato il ruolo di commissario lo abbia messo in qualche maniera con le mani legate di fronte a una decisione già presa dal Governo e da chi vuole quell'impianto. Quindi temo, Gianni fa bene oggi a porre criticità, ma purtroppo io credo che avrebbe fatto meglio a porle prima di accettare il ruolo di commissario. Io credo che oggi Gianni sia in una posizione dalla quale difficilmente potrà fare retromarcia e potrà evitare in qualche maniera questo scempio che è già stato deciso a tavolino. Mi auguro che Gianni voglia sostenere, accodarsi e abbracciare la protesta del sindaco Ferrari, ma soprattutto dei cittadini di Piombino, ad evitare l'arrivo della nave metaniera. Il Presidente Gianni, nella sua veste di commissario per l'opera del rigassificatore nel porto di Piombino, continua a nostro avviso a sbagliare. Lo fa perché adesso sta facendo il gioco delle tre carte con la durata del tempo di questa concessione che Snam dovrebbe avere per posizionare il rigassificatore ed avere la concessione sia sul porto che come offshore fuori dal porto di Piombino. Si è sempre parlato di due o tre anni nel porto e il resto fuori come offshore. Sicuramente non è accettabile che questa soluzione avvenga né nel porto di Piombino né nel golfo di Follonica come offshore. Quindi parlare di questi anni due o tre, la concessione a 25 è qualcosa che noi sappiamo già da diversi mesi. Dobbiamo affrontare la questione in maniera diversa. Gianni, ascolti il territorio di Piombino, ascolti il suo partito a Piombino, ascolti il suo partito rispetto a quello che gli viene detto dal consigliere regionale del suo partito di quel territorio. Noi siamo convinti che a Piombino il rigassificatore non ci deve andare né tre anni né tre giorni. Nel pomeriggio di mercoledì al Ministero si è poi tenuto a una riunione con i ministri Roberto Cingolani e Maria Stella Gelmini, il governatore Gianni, l'amministratore delegato di Snam Stefano Venier e i rappresentanti di Palazzo Chigi, dove è stato deciso che si farà, ma rimarrà solo per tre anni. Quinta edizione del Festival in Cantaborgo a Sinalunga. L'appuntamento nella cittadina della Val di Chiane è dal 14 al 17 luglio, per respirare la migliore tradizione del teatro di strada e conoscere un caratteristico borgo della nostra terra. Rappresenta l'evento principale e centrale dell'estate sinalunghese. Siamo soddisfatti quest'anno di riuscire a ripartire dopo due anni di stop, quindi l'entusiasmo è al massimo.